Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 11 in Corso Umberto, in pieno centro di Ponte Cagnano-Faiano. Un sessantenne ha tentato di aggredire la moglie, la persona che era con lei, minacciando di colpirli con un martello. Immediato l'intervento sul posto del comandante della polizia locale, Franco Lancetta, in giro per alcuni controlli, che oltre a requisire il martello ha provveduto a riportare alla calma la situazione. L'uomo ora rischia una denuncia per aggressione. Alla base del Raptus, stando ai primi rilievi, ci sarebbero motivi passionali legati all'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie.